Ciovar Cameo, il gusto che scalda l'inverno. Mi chiamano Trinita. No! Sì. Trinita. Strano nome per un pistolero. Puoi scolpire nella roccia per celebrare qualche forte. Lo puoi marchiare a fuoco per ricordare come bruciano i suoi cazzotti. Lo puoi scrivere col piombo, ma non riuscirai mai a impallinarlo. Puoi anche scriverlo nella sabbia, se vuoi. Tanto lui è veloce, più del vento. E se anche quella scritta verrà soffiata via, non potrai mai dimenticare quel nome. Lo chiamavano Trinita. Domani, 20 e 50, canale 5. In un mondo dove lo spazio conta sempre di più. Lavatrice Zero Watt Spazio Top. Solo 42 centimetri. Con carica dall'alto. Zero Watt, gli specialisti del lavaggio. Vitamine, ragazzi! Sì! Con Golia Frutta C, tutte le proprietà della vitamina C si concentrano nel suo ripieno. Golia Frutta C senza zucchero. Un ripieno di vitamina. Per tutti. Linus per primo ha dato la gioia ad ogni bambino, mettendo il soft sul pannolino. E viva Comfort Ultra! Linus è il primo pannolino soft, perché il primo ad essere rivestito di un velo morbido come tessuto. Toccate un po'. E l'asciutto? Provate con un litro d'acqua e ultra. Tiene tutto e torna asciutto. Belline, scomfort ultra! Beato chi c'è là! Yahoo! Cinque milioni di innocenti sono finiti in carcere negli ultimi 50 anni. Erano tutti presunti colpevoli. Filippo Pacci, presunti colpevoli. Mondatori. L'igiene del piede è importante. A tal proposito, consiglio una selezione specifica classe, anche in versione baby. Oggi, Galletto Vallespluga con contorno di allegria. Galletto Vallespluga, basta pensarci. Quando la cute è secca, la testa prude e anche i capelli diventano aridi e opachi. Ma ora, c'è nuovo Clare Cute e capelli secchi. La sua formula arricchita con un complesso idratante aiuta a ristabilire il livello di idratazione del cuoio capelluto. E se la cute è idratata, anche i capelli tornano morbidi e luminosi. Funziona! Nuovo Clare Cute e capelli secchi. Idrata la cute. Ridà vita ai capelli. E' arrivata l'ora che molti aspettavano. Passare ad un'auto nuova, migliorando la qualità dell'ambiente e la sicurezza della circolazione, adesso costa meno. Il governo offre fino a 2 milioni di incentivo a chi è un'auto con più di 10 anni. Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Innocenti, anche. Risultato, fino a 4 milioni in meno. Buone notizie per gli automobilisti italiani. Roberta ha detto no al colesterolo. Per questo ha scelto la crema Valsoia, 100% vegetale. Tutta bontà. Ricca di fibra, in una corretta alimentazione aiuta a proteggere dalle insidie del colesterolo. No al colesterolo. Sì, a Valsoia. Quando il latte abbraccia la bontà, scopri la nuova ricetta con panna. Quando il gusto abbraccia il piacere, scopri le nuove Alpenlibe, ancora più buone con panna. Alpenlibe, dolci come un abbraccio. Oggi Super Soft Foxy è ancora più morbida, sofficissima, più ricca di morbidezza. Ecco la cartigenica Super Soft, la super soffice di Fox. Crema energetica polivitaminica Venus. Più energia e vitalità per la pelle. Venus, le vitamine della bellezza. Allarga adesso! Bisogna vedere cosa succede, perché... Pippo D'Auto presenta un anno fa. Ok, avete provato? Sì, signor Pippo D'Auto. Per la serie di speciali una volta al mese, Pippo D'Auto presenta Un Anno Fa. Sabato 11 gennaio alle 20.50, Canale 5. C'è un solo amore che fa sognare. Questo fiore è per te, ti amo! Che fa soffrire. Non c'era facile niente. Che fa sperare. Se nel caso tu non mi amassi più, allora me lo devi restituire. Che fa parlare. Io non voglio più stare insieme a lei, ma per questo non posso voler bene. Che fa amare. Jennifer ti amo, sono venuto qui. Strana amore. Domenica 12 gennaio, Canale 5. Oggi, Galletto Vallespluga. Basta un forno ben caldo, un pizzico di allegria e due note personali per esaltare gusto e croccantezza. Galletto Vallespluga. Basta pensarci. Bond. James Bond. 007 James Bond Collection. Finalmente in edicola tutti i film di 007. Prima uscita, licenza di uccidere. A sole 14.900 lire. Ero certo che prima o poi sarebbe arrivato... Favre gli editori. Sconto di 3.000 lire su due pellicole Polaroid. Allora, bianco o rosso? Per me e bianco. Ci penso io. Il vino Ronco ha una confezione speciale. e si stappa così. E quando premi il rubinetto del Ronco, ogni volta ritrovi tutto il piacere del vino appena stappato. Vino Ronco. Buono. Fino in fondo. Notti calme, giorni belli, filtro a fiore e monomelli. Il meglio da chi ti vuole bene. I've been loving you. quando il latte abbraccia la bontà scopri la nuova ricetta con panna quando il gusto abbraccia il piacere scopri le nuove alpe libe ancora più buone con panna alpe libe dolci come un abbraccio. Roberta ha detto no al colesterolo per questo ha scelto la crema valsoia 100% vegetale tutta bontà ricca di fibra in una corretta alimentazione aiuta a proteggere dalle insidie del colesterolo. no al colesterolo sì a valsoia naso chiuso rinazina spray nasale rinazina spray nasale predosato con la sua nebulizzazione delicata libera subito il tuo naso rinazina spray nasale respiro libero è un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo evitare uso prolungato Ferrarini presenta su Adelmo da però giurate di non fare casino c'è mia moglie con i bambini che dormono sopra il negozio aspetta sono io cosa d'arte ma i ferrarini pensi che le signore qui vengono solo per me no anche dai ragazzi ferrarini interi no ragazzi prosciutti ferrarini da 40 anni il gusto di mangiare sano ma che noia stare qui a girar è arrivato il tempo di cambiare passi 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 io passo passi l'unico passaverduro elettrico Ariete il genio della casa oggi Galletto Vallespluga con contorno di allegria Galletto Vallespluga basta pensarci grazie a colmenares Orge Martins i due volti dell'unico prossimamente su Riti 4 Ciobar Cameo il gusto che scalda l'inverno mamma e papà cercano urgentemente figlio perché non ne adottiamo uno? possibilmente buono obbediente silenzioso è così che vorrei che fosse mio figlio buono obbediente silenzioso chi meglio di lui? è un ragazzo adorabile quello è un avanzo di galera vivace questo è il diavolo ma no mi manca solo un po' d'affetto e noi due faremo tante belle cose insieme io voglio veramente essere un buon papà La piccola peste martedì 20 e 50 canale 5 prendete un foglio una matita e provate a disegnare oppure comprate il corso di pittura e disegno in fascicolo e videocassette di fabbri editori per imparare a dipingere alla perfezione il primo fascicolo la videocassetta ne dico la sola 4.900 lire corso di pittura e disegno pittori si diventa quando il latte abbraccia la bontà scopri la nuova ricetta con panna quando il gusto abbraccia il piacere scopri le nuove Alpenlibe ancora più buone con panna Alpenlibe dolci come un abbraccio gengive delicate o infiammate i problemi alle gengive vanno affrontati in tempo Neo Emoforum ha un'efficace azione preventiva grazie ai sali minerali da cui nasce il suo gusto salino e non a caso ha un colore rosa il colore delle gengive sale Neo Emoforum previene e combatte i problemi alle gengive Neo Emoforum gusto salino colore rosa gengive sane prima che il mal di gola diventi un incendio chiedete aiuto a Benagol Benagol la forza degli antibatterici leggere attentamente il foglio illustrativo grandi consumi grandi regali ma provate a guidare Mitsubishi Carisma scoprirete che lei Mitsubishi Carisma offre grandi prestazioni piccoli consumi e zero interessi su 20 milioni in 30 mesi mobili eccolo questa non è male secondo me oh niente niente è solo un altro cliente pagine utili mondadori fatevi trovare ve ne siete accorti anche grazie alla carne negli ultimi 50 anni la statura media è cresciuta di 7 cm carne bovina di qualità gli asciugoni regina sono lunghi quasi il doppio degli altri ecco perché assorbono molto e molto a lungo asciugoni regina non finiscono mai scopri fiord è la novità danone sopra una crema fresca ricca di latte sotto la frutta più golosa danone fiord la natura al meglio da scopri fiord Appident. Aiuta a eliminare lo stress. Definitivamente. Buongiorno, questa è la più bella cosa che potete... Vorrei un basso. In tedesco basso si dice bas, dum significa cretino. Oggi il tedesco si impara con tedesco oggi Fabri Schenker. È in edicola la prima uscita a sole mille lire. Bass. Bellissimo, ma che dire altro? I tuoi occhi brillano come il sole in ciel sereno. E i tuoi capelli... Una serata con le più forti e le più belle emozioni del programma Rivelazione dell'autunno. Veramente? Sì, poi con quegli occhi penetranti. Le volevo chiedere se volevo uscire con me a cena. Un giovedì sera pieno di seduzione e con il divertimento della comicità di Mar Tuffet. Mi compari! Super Paolo Bonolis presenta Beato fra le donne. Super, giovedì alle 20.50 su Canale 5. Notti calme, giorni belli, filtro a fiore e polomelli. Il meglio da chi ti vuole bene. Tosse profonda e opprimente? Occorre liberare i bronchi fluidificando il muco. Bronco mucilla adulti, sciroppo alla carbocisteina. E per la tosse che non dà tregua da sempre bronchenolo, sciroppo e compresse. Possono indurre sonolenza, sono medicinali. Leggere attentamente il foglio illustrativo se la tosse persiste e consultare il medico. Avanti il prossimo! Ma lei non l'ha incollato con Super Attack! Male, infatti la rottura non è andata a posto. Super Attack, invece, incolla qualsiasi materiale in pochi secondi e per sempre. Super Attack, così si incolla. È guarito, è guarito! Finalmente qualcosa per bloccare la dentiera. Algasiv, niente, funziona meglio. A differenza di pasta e polvere è un cuscinetto con due potenti adesivi naturali che si rafforzano con la saliva. Facile da togliere, non lascia residui sgradevoli. Algasiv, blocca la dentiera tutto il giorno. La sensibilità dei vostri denti al freddo e al caldo è come la punta di un iceberg. Può nascondere problemi seri come i gengiviti o paradontiti che se trascurati possono diventare sempre più grandi e pericolosi. Come un iceberg. E allora, Sensolite. Il dentifricio specifico che crea una barriera contro la sensibilità dentale e combatte i disturbi gengivali. Ogni giorno, Sensolite. Contro la sensibilità dentale da cima a fondo. Franco Battaglia, l'uomo che si prende cura delle teste più belle del mondo, ha creato SHS, la linea dei sette trattamenti completi. Solo trattamenti personalizzati risolvono i problemi di capelli così diversi tra loro. Capelli su, capelli giù, SHS. È l'ideale per noi che stressiamo tanti i nostri capelli. SHS di Franco Battaglia. Per la cura dei capelli delle donne più belle del mondo. Oggi per tutte le donne. È la dieta al pompelmo, è la dieta al sedano, è quella alla carota, è quella al prezzemolo. Io credo che la cosa importante sia mangiare sano e godersi la vita. Montorsi, puoi stare sicuro. Nelle nuove Alfa 145 e Alfa 146, molto è cambiato. 1.4, 103 cavalli. 1.6, 120 cavalli. 1.8, 140 cavalli. Nuove Alfa 145 e Alfa 146 con i nuovi Twin Spark 16 valvoli. Ai vertici di ogni categoria. Venite a provarle sabato 11 e domenica 12 dai concessionari Alfa Romeo. Papà, guarda quanto latte bevono. E tu perché non inzuppi? Perché a me piace morderle. Le macine più stanno nel latte e più sono buone da mordere. Il giusto spessore in un biscotto tutto da inzuppare. Per un piacere unico, tutto da gustare. Macine mulino bianco. Chi mangia sano trova la natura. Vicinet Candeggina Gel. La prima candeggina speciale per il WC. Mentre la vostra candeggina scivola via. Vicinet Candeggina Gel arriva sotto i bordi. Aderisce alle pareti. Rimuove i germi. E sbianca fino in fondo. Vicinet Candeggina Gel. Speciale per il WC. E da oggi Vicinet Candeggina Gel. Freschezza limone e freschezza eucalipto. Quando ci sono più fragole c'è meno spazio per lo zucchero. Per questo Frutta Viva è la confettura che sa di frutta e non di zucchero. Frutta Viva. Viva per natura. Quaranta. Quaranta. Trentazinque. Venticinque. Ciao. No, non è il mio numero di telefono. È la ricetta del Gran Mix Ferrari. Quaranta per cento di Parmigiano Rezzano. Trentazinque di Grana Badano. E venticinque di Enmonta Les Brins. Gran Mix. La ricetta esclusiva di Giovanni Ferrari. E le parmigiane sono più... Appetitose. Roberta ha detto no al colesterolo. Per questo ha scelto la crema Valsoia. 100% vegetale. Tutta bontà. Ricca di fibra. In una corretta alimentazione aiuta a proteggere dalle insidie del colesterolo. No al colesterolo. Sì, a Valsoia. Non scherzare con la salute. Leggi Viver Sani e Belli. Con sole 2500 lire. Pensi al benessere di tutta la famiglia. Viver Sani e Belli. Per vivere meglio. Per stare bene. Per essere più belli. Questa settimana ti regala il libro Pressione Alta. Dieci milioni di italiani soffrono di ipertensione. Viver Sani e Belli ti dice come prevenirla e curarla con dieta e ginnastica. E quando ricorrere ai farmaci. Seno. Come mantenerlo in buona salute. Digitopressione. Dalla Cina. Il massaggio per ritrovare energia e bellezza. Viver Sani e Belli. E in regalo il libro Pressione Alta. Crema energetica polivitaminica Venus. Più energia e vitalità per la pelle. Venus. Le vitamine della bellezza. Mi chiamo Bond. James Bond. 007 James Bond Collection. Finalmente in edicola tutti i film di 007. Prima uscita a licenza di uccidere. A sole 14.900 lire. Fabri Editori. Se la tua gola è diventata un semaforo rosso. Vai in farmacia. Antoralgola. Con Antoralgola il mal di gola passa. Grazie al tibenzonio ioduro. Un antibatterico di formulazione ricordati. Antoralgola in spray e pastiglie anche senza zucchero. Antoralgola. Il palletto va all'espluga. Basta pensarci.